Oggi vi faccio vedere cosa c'è dentro la mia borsa di vacanze, cioè la mia beauty bag Questa è la mia beauty bag, è una bag di My Melody Little Twin Star Penso che l'ho acquistata in Giappone, però non sono più sicura Potrebbe darsi che l'ho ricevuta in una delle mie iscrizioni che avevo nel passato Forse la Q-Box E quello che mi piace tantissimo di questa borsetta è che si può chiudere a metà C'è anche il bottone per chiudere e poi si apre e viene con due reparti ed è trasparente Perciò si vede cosa c'è dentro la busta Provo sempre a portarmi il minimo delle cose perché mi conosco e io di sicuro comprerò qualcosa di nuovo Nuovo paese e nuovi prodotti di bellezza, no? In realtà guardo sempre di coprire tutto perché non si sa mai e magari non trovo niente Allora almeno c'è qualcosa con cui posso lavorarci Porto solo quello che mi applico veramente E porto sempre prodotti che penso che non posso sostituire perché In certi paesi fai un po' fatica a trovare prodotti che trovi nei tuoi paesi Allora mi porto una matita per le sopracciglia Questa è di Kiko È la Precision Eyebrow Pencil Questa matita me la porto perché è sottilissima Ha un temperino che è adatto alla matita Viene con questo spazzolino che è molto pratico Mi porto soltanto una matita con cui posso riempire e formare le ciglia Poi mi porto il mio fedelissimo Urban Decay Eye Primer Potion Perché sì perché me lo porto Perché in caso che mi metto dei ombretti mi tenga tutto il giorno Poi mi porto un correttore E mi porto il Bronx Boosting Hydrating Concealer Molto conveniente È una marca svizzera in caso se vi interessa Costa pochissimo e copre benissimo Anzi lo sua oggi Poi mi porto il fondotinta Fit Me Met and Pore 120 la mia colorazione Poi mi porto questa palette di base Cioè questo è il Sleek Face Form Contouring and Blush Palette Una palette che mi porto sempre in vacanza Perché? Perché viene con questi tre prodotti Viene con il contour, l'illuminante e il far Il far è un po' un aranciastro È un colore pesca Io trovo che il colore pesca va di bene anche con qualsiasi rossetto che applici A me mi dona un complesso molto naturale Oggi ho su un colore pesca simile Mi dona un'armonia anche con un rossetto Con qualsiasi rossetto che ho adesso Che arriva con un specchio che utilizzo spesso per farmi i trucchi Perché di solito nel bagno degli hotel è un po' troppo scuro Perciò mi metto davanti alla finestra e mi faccio il trucco così Questa palette l'ho comprata per caso a Sephora Che stava lì dalle casse L'ho visto, l'ho preso così Perché non conoscevo la marca È un grande successo di comprarmi questa palette Perché la sto utilizzando, la sto disfruttando tantissimo Poi mi porto la cipria Questa è la cipria di Pupa La cipria questa è in polvere Il baratto è abbastanza piccolo Perciò molto compatto per portare appresso Questa palette che non sono sicura se me la porto appresso Perché questa è la palette di Kiko È la Nice is Better Eyeshadow Palette Che viene con gli ombretti Viene con otto, no, nove ombretti Non so se voglio portarmela appresso Magari trovo degli ombretti di là dove sto andando Perciò Io posso benissimo andare senza applicarmi ombretti per un giorno, per due giorni Oggi praticamente non mi sono messa ombretti Però in caso che volete portarvi delle palette Trovo queste qua fantastiche Queste palette che non sono gigantissime E vengono con tantissimi colori che bastano di sicuro Ho pensato anche di portarmi appresso Ombretti singoli Però ancora non so Deciderò all'ultimo Pensavo di portarmi appresso gli ombretti singoli di Pupa Van Ora vi mostro questi qua Questi ombretti qui Magari questo colore marrone Solo così per avere un ombretto appresso Magari uno opaco e uno scintillante Così per creare un look decente Mi porto appresso sicuramente il mio amatissimo Pupa Vamp mascara Questo fedelissimo Non andrò a comprare niente di nuovo Ovvero vorrei tanto provare il nuovo Pupa Vamp Quel all in one Ho visto recensioni e ho pensato Madonna Che meraviglia Il mascara ti dona tutta un'altra vita La faccia se l'hai applicato Mi porto appresso anche due rossetti Questi sono i I'm Mad Lip Fluid di Pupa Mi porto appresso la colorazione 014 un nude E la colorazione 033 un rosso Assieme ai rossetti mi porto due lip liner Che sono della stessa colorazione come gli rossetti E questi sono di Deborah Sono i lip liner Sono i 24 ore matita labbra tenuta strema Colorazione 01 Una colorazione 10 un nude e un rosso Mi porto anche appresso un beauty blender per stendere il fondo Una di queste cialdine per applicarmi la cipria 5 pennelli che sono 3 pennelli per il viso Uno questo per sfumare i bordi Poi questo qui che è un blender Eye blender di Zoeva Che è il 225 Per applicarmi sui bordi dell'occhio un po' di colore E poi mi porto appresso questo smoky shader Il 134 Il primo era il 128 Il crease Con questi 3 pennelli riesci a creare qualcosa di decente Per la base Mi porto appresso questo tapered highlighter f35 di sigma Che lo uso poi per il blush, l'illuminante e il contour E all'ultimo mi porto appresso un pennello per la cipria Per spolverare via l'eccesso Spero che vi sia stato utile questo video E vi ringrazio tutti di essere passati Ci vediamo tutti la prossima volta Ciao ciao